Cosa facciamo oggi? Oggi facciamo quello che in qualche modo abbiamo già fatto nella parte teoria della fluodinamica, vero? Cioè incontriamo l'impianto con la pompa. Quindi vediamo come, che tipo di pompa mettere, noto l'impianto, che un po' quello è la sintesi. Noi fino ad oggi abbiamo imparato a studiare l'impianto, a vedere le esigenze dell'impianto, vero? Quali sono le perdite di carico, quale sono le prevalenze che deve generare, quale sono le portate che lui deve produrre, vero? L'abbiamo imparato a fare attraverso le equazioni per nulli e l'abbiamo imparato a fare attraverso le perdite di carico concentrate e distribuite. E noi, dato un impianto, abbiamo imparato a calcolarne le prestazioni, vero? Cioè l'andamento della pressione, della prevalenza, in funzione della portata. Chiaro? Oggi cosa faremo? Oltre a capire lo schema di impianto, andremo a vedere come mettere una pompa all'interno di un impianto dove vogliamo generare certe caratteristiche. Questo è quello che abbiamo già fatto nell'esercizio. Però oggi lo facciamo in maniera, diciamo, anche con il grafico. Cercheremo anche con i grafici di riapire come si incrocia le caratteristiche dell'impianto con le caratteristiche della pompa. Perché noi fino ad oggi cosa abbiamo visto? Quando abbiamo fatto la prodinamica, abbiamo imparato a studiare le caratteristiche dell'impianto. O meglio, come determinare la prevalenza, la pressione, le perdite, ok? Che potrebbero essere viste o come pressione o come prevalenza, la prevalenza. Poi abbiamo visto tutte le pompe, abbiamo visto come... Qua vedo, le tipologie di pompe... Molti di voi perdono proprio la premessa della lezione, quindi poi dopo, tutto dopo, dopo... Abbiamo visto quindi le pompe, abbiamo visto le tipologie, abbiamo visto come sono costituite e abbiamo visto come si legge le prestazioni di una pompa. Quindi abbiamo visto le curve caratteristiche e abbiamo visto poi i numeri adimensionali che ci permettono di raggruppare queste pompe all'interno di famiglie di appartenenza che permettono quindi di vedere la tipologia di pompa all'interno di numeri adimensionali che non dipendono dalla specificità della pompa stessa, vero? Cioè, che se la pompa ha delle caratteristiche generali simili, come si può analizzare? Abbiamo visto anche nell'ultima lezione, cosa importantissima, come dalle specifiche di progetto che voglio ottenere, come scegliere la pompa ideale, chiaro? Come scegliere la condizione di funzionamento ideale. Non so se ve lo ricordate. Ve lo ricordate questo passaggio? Questo è un po' quello dovevate studiare per oggi e ovviamente non l'avete studiato, sicuramente. Però poi avete la lezione dopo, manca questa parte, non è che tutte le volte si può rimanere indietro, perché poi manca tempo per quella roba. Allora, l'ultima volta si è visto, a parte i numeri dimensionali, e va bene, che racchiudono tutte le pompe, si è visto come, a seconda di due valori, il numero di giri specifico e il diametro specifico, scegliere la tipologia di pompa. chiaro? Ovvero, se detto anche il numero di giri specifico, ci dà un'indicazione di come far funzionare la pompa affinché sia massimo il lavoro specifico e la pompa riesce a trasmettere al fluido. Chiaro? Quindi la condizione ottimale di trasferimento dell'energia, dalla girante, che è energia meccaria, al fluido che acquisisce energia di pressione o di pompa. Il numero che ci dà questo è l'omega S. Chiaro? Se ci dice, in funzione delle aratteristiche della pompa, in modo particolare, alla portata che voglio ottenere e al numero di giri, chiaro? E alla prevalenza che voglio ottenere, qual è il numero di giri specifico, ottimale, che posso ottenere? E poi abbiamo visto il diametro specifico. Diametro specifico che non dipende dal numero di giri, ma che dipende dalla portata e dalla prevalenza. Quindi, il fatto che non dipende dal numero di giri, che vuol dire, che è indipendente. Quindi questo è cosa ci permette di fare. Ci permette, attraverso questo grafico, di scegliere il numero di giri specifico che ottimizza il rendimento. Attraverso questo, che viene prima, ci permette di capire, in base al numero di giri specifico, qual è la pompa migliore, sia assiale, ragiale vista, ora è chiaro. Quindi noi, nota la portata che si vuole elaborare, noto la prevalenza che si vuole ottenere, dalla conoscenza dell'impiatto crudo dinamico, ricaviamo il numero di giri specifico, dal numero di giri specifico capiamo dove siamo posizionati, in base a dove siamo posizionati, scegliamo il diametro specifico, chiaro? Una volta scelto il diametro specifico, andiamo a dimensionare la nostra pompa, perché il diametro specifico, in base alla portata e alla prevalenza che voglio dare, ci dà il D, il diametro della girante. Chiaro? Ci siamo? Ci siamo o no? E? Si ricava, nota la prevalenza e nota la portata, la girante, perché tu trovi il diametro di ingresso. Chiaro? Ora, che è che ci dà la prevalenza e la portata? La conoscenza dell'impiatto e lo studio crudo dinamico che abbiamo fatto nella parte che ha preceduto queste lezioni. Noi sappiamo, voi sapete che non a macchine abbiamo fatto nella prima parte tutta la parte fisica-tecnica della parte dinamica. Abbiamo fatto l'idrostatica e la crudo dinamica. che ci hanno insegnato a calcolare, in base all'impianto, la prevalenza, manometria e la portata. Bisogna? Quindi, il V, punto, portata, volumetria e l'H, prevalenza, manometria, le sappiamo calcolare. Oggi cosa facciamo? Vediamo lo stesso ripetuto dell'impianto. ovvero, non abbiamo un impianto, di ronosciamo, questo è l'esercizio che avete fatto nel compito prima di questo gruppo di lezioni, nell'argomento prima. Chiaro? Chi era? Come? Calcolare la prevalenza manometrica, sulla base anche delle perdie di carico. Chiaro? E qui vi riporta il tutto. Vi riporta le vuote di battente, di pelo libero, quello che sapete fare, vero? Noi sappiamo che spesso ci basiamo sul pelo libero come quota, considerando quella come valore di partenza. Chiaro? Qui, una volta è nota la vuota di pelo libero, Zv, una volta è nota lo Zm, la vuota di pelo libero che voglio ottenere, una volta è nota la portata che voglio elaborare, quindi la vuota cinematica che voglio dare più fluido, conosco la vuota barometrica, conosco la vuota cinematica dalla portata, dando per scontato che la vuota di pressione è uguale, perché trasferisco dalla pressione atmosferica alla pressione atmosferica, quindi non devo vincere una parte avversa di pressione, altrimenti devo tener conto anche di quella, e anche noi abbiamo fatto esercizi, ovvero, se qui c'è un serbatoio aperto, qui c'è un serbatoio chiuso, a pressione, devo conferire il fluido anche a energia di pressione, quindi alla parte, all'arca, alla parte cinematica e alla portata, devo aggiungere anche la parte di pressione, inoltre conosco in questo impianto la parte delle perdite, che le posso vedere come perdite di altezza o come perdite di pressione, non cambia niente, perché attraverso la legge di Stefino le posso legare, vero? Chiaro? Bene, una volta quindi conosco la vuota e voglio generare, la portata e voglio elaborare, le perdite di carico che sono legate attraverso il numero di Reynolds a la portata e voglio generare, e al diametro che dei condotti ho disponibili, chiaro? Non sbagliamo e diamo solo dei condotti con il diametro della girante, va bene? Diamo sulla girante e macchina, e diamo solo dei condotti e impianto, chiaro? Una volta io ho noto queste caratteristiche, ho quella che si chiama curva caratteristica dell'impianto, che è questa rossa, che mi dà l'acca in funzione della portata che voglio generare, vero? Cioè se io voglio con lo stesso impianto portare più portata, cambia il numero di Reynolds e automaticamente cambia il perdite di carico, oltre ovviamente a cambiare la parte cinematica che devo dare al fluido. Chiaro? Quindi ho la curva rossa, che è fatta da due componenti, la componente statica, che è vista come la prevalenza che voglio vincere, e la pressione che eventualmente voglio ottenere, e la parte dinamica, che è quanta portata voglio effettivamente lavorare nel circuito. L'insieme delle due lo posso vedere come prevalenza manometrica, perché attraverso le equazioni di Bernoulli posso ricondurre la parte dinamica alla parte statica, che è l'attesa. Chiaro? Una volta ho la curva rossa, io ti posso disegnare sopra la curva azzurra, che è la curva caratteristica della pompa, non è quella dei numeri adimensionali, è proprio quella della pompa, che ovviamente ricavo attraverso i numeri adimensionali, va bene? Per similitudine. Io però disegno la curva caratteristica della pompa, e mi dice che tipo di prevalenza ha la pompa in base alla portata. Ovviamente, occettualmente, cosa capisco? Che la pompa ha un'energia meccanica. Questa energia meccanica me la può dare o in prevalenza o in portata. Cioè, o richiedo più portata, e quindi l'energia meccanica disponibile me la mette in portata, in energia cinese del fluido, o me la mette in cosa? Infatti l'andamento è invenzamente proporzionale. Vedete? Cioè, se aumento la prevalenza, diminuisce la portata. Quindi, se aumento la portata, diminuisce la prevalenza. Cioè, mi fa altezze minori. Perché parte dell'energia la distribuisce più nella parte cinematica. Se aumento la prevalenza, riduce la parte cinematica, e lavora meno portata. Chiaro? Ma non ha nulla azzurra? No, la curva azzurra non ha calcolato lei. Se lo dà, la curva azzurra è la completa progettata. No, dicevo, cioè, questa decisione che fa la massa di un'energia di un'energia. No, tu lo vedi, guarda, non è deciso di niente, lo decide la realtà. No, no, sì, dicevo, cioè, veloce le presentazioni di un'energia di un'energia. Eh no, è quello che si vuole far capire. Cioè, te ha un impianto, ci mette una pompa, come funziona questo impianto? In un modo solo, te lo fa vedere, eccolo qua. Insomma, la rossa sarebbe la perenza? No, la rossa sarebbe la caratteristica dell'impianto. La prevalenza è in base alla portata. Perché? Cosa abbiamo visto noi, nella prima parte dell'anno? Con la fluodinamica. Che se variavi la portata, cambiava la preva, perché cambiava le perdite di? Cambiando il numero di? Quindi è tutto legato. Tant'è per noi, si disse per semplicità, facevamo esercizi dove la portata era data. E non ci preoccupavamo di tutti gli effetti. Però gli esercizi veri, quelli un po' più lunghi, erano quelli iterativi, dove si doveva trovare l'equilibrio tra la portata determinata in base al tipo di impianto e le perdite di aria si generavano. Cioè, lasciamo un equilibrio tra la perdita di aria e la portata. Vi ricordate? Noi, se fate esercizi in cui la portata ve la assegnavo io e vi dicevo, bene, determinate con questa portata le perdite di aria. Sì, però vi dicevo, la perdita di aria ve la do io. Scusate, la portata ve la do io. Che perdite di aria ci sono? Quando ti metti dentro una pompa, la pompa è che cosa ti fa? Se tu la costringi ad aumentare la prevalenza perché c'è più perdite di aria, automaticamente riunisce la portata. Mi controlla la condizione di equilibrio tra la portata legata alla velocità dei perditi, e le perdite dovute alla portata. Quindi, un altro punto di equilibrio è quello che vedete, dove si incontra la burba rossa o la burba blu. Quindi, se io metto una pompa in un impianto e ha delle perdite e le perdite si sono legate alla portata, io prima metto la portata aumenta le perdite e quindi aumenta la prevalenza e la pompa deve generare finché non si incontrano nell'equilibrio per cui la pompa è in grado di fare quella prevalenza che genera con quella portata che la pompa riesce a fare. Se gli aumento la perdita perché la burba è più verso l'alto, il punto di progetto si sposta a... quindi se io ho un impianto e gli strizzo una valvola e gli aumento una perdita concentrata perché ci metto una valvola un rubinetto e lo stringo automaticamente diminuisco la portata aumento se viceversa quindi se io voglio annaffiare e voglio arrivare più lontano quindi voglio più prevalenza manometria devo ridurre la... devo stringere il rubinetto quindi porto meno acqua ma la sparo più... più lontano diciamo quindi punto di equilibrio non sei te che lo scegli è il sistema e si autoregola perché ricordatevelo mettetevelo in testa la portata e la prevarenza non sono indipendenti perché la portata influenza il numero di Reynolds il numero di Reynolds influenza le perdite l'H perché l'H è fatta non solo dalla quota geometria ma anche dalle perdite chiaro? ci siamo? allora portata e prevalenza non sono indipendenti perché la portata influenza il numero di Reynolds che a stavolta influenza le perdite e questo l'avete fatto va bene? le perdite a stavolta influenzano la prevalenza perché la prevalenza è fatta dalle perdite dalla parte cinematica portata e dalla quota geometria e tu puoi vincere se vuoi portare l'acqua a due metri sono due metri quello non cambia ciò che cambia le perdite oltre a due metri devo vincere un metro di perdita quindi devo portarle come se la portasse a tre metri idealmente in più c'è una parte cinematica cioè devo portare più acqua quindi automaticamente portando più acqua ho bisogno di più energia meccanica perché devo offrire il frutto di energia cinetica più aumento le perdite che a stavolta aumenta la prevalenza ma non metri e devo fare quindi i tre valori sono non indipendenti ma legati e mi danno il punto di equilibrio dove tutte e tre si sposano quindi la portata è un frutto di livello la prevalenza la prevalenza dipende dalle perdite di aria e dalla parte cinematica la porta portata a voglio perché ti dico dove è la prevalenza H cioè la parte cinematica la parte di prevalenza vera e propria più le perdite di aria quindi cos'è il numero di renoz? quindi la portata e il diametro di condotto ma quello si dà per scontato e poi c'è il numero di renoz e il perno e il perno di renoz? si dà per scontato il tuo impianto noto quindi il condotto è di diametro noto le curve sono di diametro noto le valvole sono note gli sbocchi sono noti cioè che l'impianto sia noto cioè questo è noto quante curve ho? quante sbocchi ho? quante valvole ho? che prevalenza ho? che se tu cambi questi automaticamente cambia il punto di equilibrio chiaro? quindi quando io volessi variare la portata nasce un problema o forgerà la pompa più o tre mezzi se io voglio più portata devo rinunciare alla preva non c'è più chiaro? se non voglio rinunciare alla prevalenza devo avere una pompa che è il rego la foggerà è più? più veloce va bene? bene qui lui fa vedere due curve caratteristiche del sistema va bene? e vi fa vedere anche una certa una caratteristica noi abbiamo visto delle pompe vero? abbiamo visto le pompe volumetrie e abbiamo visto le pompe dinamiche cosa abbiamo detto delle pompe volumetrie che ve le ho rinunciate? e l'abbiamo detto anche delle pompe normali non delle surbocompe cosa abbiamo detto di queste pompe? che caratteristiche avevano? che la portata era prevalentemente costante che la portata era prevalentemente costante e qui ne vedete riportato un esempio vedete? vedete la curva come è verticale non è regolabile chiaro? quindi queste pompe cosa hanno? se te vuoi spostare la portata non lo puoi non lo puoi fare perché? perché la portata è abbastanza costante quindi a che punto di progetto te tu puoi cavettare il numero di giri però rischi che la portata rimanga questa va bene? ci siamo? ok infatti lo dice vedi? vedete? questa risulta essere una turbopompa dove? la portata varia quella sopra questa invece risulta essere una pompa volumetrica dove la portata? scusa? volumetra è la tensiante non è la geometria che influenza la pompa è se è pompa o turbopompa e la differenza tra pompa e turbopompa non è la stiaro radiale ma è portata regolabile cioè la cassa della pompa ha le palle regolabili in modo che il vano di passaggio dell'acqua può variare chiaro può essere la jala assiale o mista non è quella che la distingue lui no se distingue la tipologia tra dinamica e volumetrica qual è? cosa è la funzione maggiore per le turbopompa perché è chiaro fare sotto una palettatura variabile vuol dire fare sotto le palle orientabili anche la parte estatoria cioè è chiaro è molto più impegnativo la pompa tu metti una girata una cassa un buco poi la passa all'acqua le passa e gira non devi regolare la portata mentre in quella turbopompa tu devi fare proprio anche la cassa è fatta di tutte le palle estatorie che variano in modo di passaggio a seconda della portata dovrà lavorare è chiaro che in cambio della portata tu ti ritrovi una pressione tu lo vedi qui va bene perché una pressione è una portata volumetrica una prevalenza volumetrica che è fatta alla parte cinematica cioè tra questo punto e questo punto ciò che cambia non è l'opponente statica lo vedi da qui l'opponente statica che sarebbe la pressione è costante lo vedi è l'audizione iniziale andando avanti cosa aumenta? siccome tu puoi aumentare la portata ti devi aumentare l'opponente dinamica si rimane va bene? vedi qui via via tu puoi avanti questa componente aumenta questa rimane con infatti le turbopompe hanno la pressione in uscita con costante quindi l'acqua è costante no costante non c'è la differenza però lo fanno perché se ci fosse prevalenza l'acqua nasce cioè fanno una prevalenza costante non zero se no non tu porti la bomba però se te tu hai tutta la portata a 5 metri tu puoi portarla a 7 metri tu puoi aumentare non lo puoi fare a questo punto chiaro? perché quella turbopompe si può quella turbopompe si può solo aumentare la portata cioè stessa altezza portate maggiore mentre con le pompe tu puoi aumentare l'altezza che tu la puoi mandare però non puoi aumentare la portata la portata è sempre qui va bene? così come le volumetrie bene quindi che vuol dire? quando il tetto agisci con delle pompe volumetrie o con le pompe non posso variare la portata l'unico modo è variare è variare la portata è variare la caratteristica del sistema per avere un sistema regolabile cioè in cui tu puoi variare per esempio la musciata uscita di fluido chiaro? perché tu diminuisce la prevalenza scusate l'altezza è cosa che puoi portare attualmente la stronzatura ci siamo? infatti tu dici le pompe volumetrie vengono scelte solo in base alla portata del topofare e poi l'urbe di rendimento delle urbe volumetrie è quasi piatta che vuol dire? vuol dire che non varia molto se tu cambi la pressione d'uscita se tu hai un compressore a stantuffo tento far regolare la pressione d'uscita infatti tu hai la valvola il manometro e tu regoli la pressione d'uscita ma la portata è sempre quella se tu hai un compressore piccolo e ti manca l'aria ti mancherà sempre l'aria che può oscillare più forte o più piano ma la quantità di andare è passata è quella chiaro? sono tuoi di numero di giri ma i compressori questi qui non hanno numero di giri variabili chiaro? bene ora qui lui vi fa vedere un'altra cosa vi fa vedere l'accoppiamento del sistema idraleo in base alla curva caratteristica va bene? questo è un esercizio che voi fate oggi a casa va bene? vi fa vedere come note le curva caratteristiche scegliere la pompa giusta e progettarla provate a farla poi magari lo possiamo fare anche in classe però mi calverebbe anche vedere vedervi voi cementare su questo esercizio per vedere il livello che siamo anche in prospettiva di compi un po' magari domani domani di solito mercoledì mercoledì giovedì è festa non hai più modo di imparare a farlo allora 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 Allora, quindi se è visto, allora si lo nido è prima, nido addirittura, allora, ciò che aveva i punteroni, allora, questa è la parte più progettuale delle pompe, cioè vedere come sceglierle e come ottenere il punto migliore di funzionamento, va bene, ok? Quindi qui vediamo la caratteristica del sistema e le tre tipologie di pompe, lui che cosa mi fa vedere? Vi fa vedere che, come si diceva prima, quando noi abbiamo una turbopompa, attraverso il numero di tiri andiamo a ottenere la variazione del punto di equilibrio di funzionamento e quindi della portata. Quindi, la regolazione della turbopompa, prevalentemente, si fa con il numero di tiri, all'80%, al 100%, al 120% del numero di tiri di progetto, che coincidono più o meno con quella di rendimento massimo, vero? Il famoso Omega S, vi guardate? Quindi, il famoso Omega S, progetto alla pompa, rendimento massimo, a cui il numero di tiri. È chiaro che se cambio il numero di tiri, cambierà il rendimento, però ho una regolazione di portata, quello è il voglio. È come la macchina, no? Se vuoi sempre a 2.500 tiri, ho più a massima, più o meno ho anche il rendimento massimo. Però posso andare a 4.000, 4.000 e rinuncio al rendimento massimo, in cambio, con la prestazione. Allora, e qui è quanto, va bene? Qui ve lo faccio vedere, va bene? Quindi, la regolazione... Qui vedete, ci abbiamo, al numero di tiri ostante, la variazione della... della variazione di urban caratteristica, cioè di punto di equilibrio, attraverso la gire sul diametro della girante. Nell'ipotesi che il diametro della girante, come se c'è la prima, sia regolabile. Va bene? Quindi, qui si chiama il punto di progetto, a seconda di come varia il diametro di ingresso. Va bene? Bene. Un altro modo, come si è detto, di poter cambiare il punto di progetto, di equilibrio, è quello di agire sulla curva aratteristica. Come si fa a agire sulla curva aratteristica? L'abbiamo detto prima, facendo, per esempio, sulla... Sulla valvola, sulla cinesca, va bene? Sulla valvola, sulla cinesca, va bene, dove si regola l'amato. Scusa? La valvola, sulla cinesca, va bene, dove si regola l'amato. No, guarda, cerchiamo intanto di aprire un certo attualmente, poi vediamo l'esercizio su che base magari vi stimolo, perché alla fine devo portare a casa alcuni risultati. Se fa un esercizio e non porto a casa nulla... No, esercizio, sicuro. Le domande sono minime. L'esercizio mi fa capire se avete abito a che la teoria, capito? No, sono tutti esercizio, quasi tutti. No, vedendo come sviluppa il libro, è tutto esercizio. Ok? La serie si sta facendo. È ricompita. È ricompita. Se è ricompita di rio, tu devi aprire una turbocompa. Ma, tu devi sapere, la storia è piccata un po' compa. Però non la devi ampliare lentamente. Non che tu mi dici i giorni. Ma qui si fa sempre a un discorso nuovo. Ora, ho da valutarla ancora. Sono ancora... Oh, il virale non sta di bene. Ok. Allora. Lui vi fa vedere che il modo più semplice per regolare è quello di regolare il numero di giri, come si diceva prima. Chiaro? Allora, cosa vi dice lui? Vi dice che il modo di regolare la pompa attraverso il numero di giri è abbastanza semplice. Soltanto molte volte regolare il numero di giri diventa abbastanza complesso. Soprattutto ci sono alcune macchine che non hanno il numero di giri regolabile. Compressori quindi di commesso, le pompe. Vero? Oggi ultimamente nascono pompe elettrie e hanno le inventate a bordo e quindi si abbiano il numero di giri. Ma solitamente le pompe vanno in base alla frequenza di rete. Quindi il numero di giri è ben stabilito. Chiaro? L'unico, un altro modo di poter regolare le condizioni di funzionamento è quello di regolare la curva di 77-43. Volevo far vedere la qui. Dov'è? Eccola qua. Va bene? Cambiare anche quelle volumetri. Cambiare il numero di giri. Va bene? Qual è il problema di cambiare il numero di giri? Il problema di cambiare il numero di giri, ve lo dice qui? Va bene? Soprattutto nelle pompe assiali. Quindi dinamiche. Il rischio è che variare il numero di giri cambia completamente i triangoli di velocità che sono caratteristici. come abbiamo detto quando viene progettata una pompa viene progettata anche la pala affinché il fluido abbia un angolo di incidenza con la pala ottimale. se io cambio la portata o il numero di giri quindi ragazzi il prossimo agli atti ho avuto fuori a pedale il fluido perché mi sono rotolato. Poi mi chiedete a dare la ripetizione. Sto a spiegarti al terreno. Ho pensato che sia tanto detto che è il grado di spiegare questa roba. Stiamo a chiudere l'anno scolastico la sintesi non so se l'avete capito di un anno di lavoro. si sta mettendo insieme un anno di lavoro. Non è che stiamo a fare un altro argomento che quello prima si può dimenticare. Questo argomento richiede le competenze prima e le competenze nuove. Stai voi se non arriviamo lì bisogna rivedersi a settembre sapete non è che sono molto buoni molto generosi. Metto la disposizione di me e faccio a settembre che già ho fatto? Mentre sto a spiegare in mezzo voi per la terza volta di quel momento che chiacchierate ogni cinque mesi vi distraete un riuscito a stare un'ora attento. Allora tornando a noi va bene? Regolare una pompa con il numero di giri oltre delle volte a non essere possibile c'è il problema che se io mi favo bene l'esempio via forse magari è sapicino a non essere possibile io fondamentalmente, qual è l'obiettivo delle macchine fluodinamiche, questa è la pala e di far incidere in un certo modo il fluido sulla pala, onde poter avere uno scambio di energia meccanica con l'energia cioè l'energia meccanica della pala con l'energia che do il fluido, l'incidenza di questo è fondamentale l'angolo invece di entrare tangente entra con un certo angolo, perché se entrasse tangente non scambia nulla chiaro? ora questa incidenza dipende dal tuo fattore, la pala ferma e il fluido che si muove il fluido ha una velocità di ingresso e una velocità tangenziale che è dovuta infatti alla pala tira questi due danno origine a un vettore risultante, vero? questa è la velocità risultante, bisogna? bisogna o no? se io aumento la portata questo rimane uguale, questo cresce e il vettore diciamo si addirizza riduce la sua incidenza, chiaro? se esagero troppo a ridurre la portata rischio di aumentare l'incidenza al punto delle pale battono e non escono ad entrare dentro perché entrano talmente tante incidenze che non hanno componente per entrare dentro e quindi gira, batte e non porta a portata gli fatti a tappo invece da guida non rimane a fermare il fluido rimane a fermare no perché? perché cambia l'incidenza per cui l'acqua entra così, batte e torna indietro invece di entra dentro chiaro? perché ha troppa incidenza, non ha componente cinematica che gli permette di risalire troppo angolo no, l'opposto, troppo angolo rispetto alla pale chiaro? quindi lui si dice dovrebbe essere meno coincidenza ottimale che gli permette di avere anche l'opponente alziale per entrare dentro, chiaro? ora che succede? succede quindi regolare il numero di giri per esempio questo o regolare la portata nelle macchine assiali può essere un problema perché può ridurre il rendimento chiaro? quindi tutto questo va fatto con parecchia moderazione chiaro? bene infatti vi vi dico una cosa ben precisa allora nelle pompe volumetri è chiaro la portata dipende dal numero di giri vero? perché la portata è legata al numero di giri e alla cilindrata più giri fo' più volume lavoro più portata volumetria fo' chiaro? quindi per avere la portata volumetria nelle macchine la portata volumetria nelle macchine volumetri basta fare la frequenza per la portata volumetria quindi ho il volume fratto il tempo ci piove vi torna? quindi nelle macchine volumetri la regolazione del numero di giri può avvenire attraverso la velocità di dosazione senza grossi problemi se visto invece questo nelle macchine dinamiche la regolazione può creare un problema chiaro? bene? e qui infatti vi dici nelle pompe volumetria la portata volumetria è direttamente portata volumetria l'arattrista di questo punto una linea verticale sposto semplicemente la linea verticale eccola qua ma non crea grossi problemi alla pompa chiaro? cambio solo la prevalenza di equilibrio lui invece ti dice che nelle macchine assiali eccolo qua il metodo di regolazione è più seguito è come far variare l'arattrista del sistema invece di variare l'arattrista della macchina tale metodo mentre non presenta i convenienti per le pompe centrifughe deve essere impiegato un catena per le pompe assiali perché? perché le pompe assiali hanno un altro problema siccome mi si disse rispetto alle pompe volumetrile le macchine assiali sono po' prestazionali quindi nel passaggio il fluido acquisisce poca pressione perché lavora solo sull'incidenza della para non lavora sulla parte di rotazione se per i dati abbiamo detto le pompe centrifughe e lavorano pressione elevate portate piccole avendo pressione elevate anche se aumentano le curve caratteristiche cioè se gli metto davanti una pressione maggiore da vincere il compressore riesce a far uscire il fluido e a vincere la pezzo di pressione nelle macchine assiali avendo poi pressione se io il fluido qui davanti trovo una pressione troppo e non riesce a ricevere il gacinetia dalla para invece davanti che fa? è il famoso pompaggio cioè la pompa se ti fa tu non riesci a portare fuori il fluido non gli dai energia sufficiente per vincere l'onda di e quindi torna e tu senti la botta perché il fluido arriva torna indietro quindi a un certo punto qui c'è sulla palla quando lascia tu senti il colpo perché la palla una più pressione inizia a vibrare chiaro? quindi nelle macchine assiali la regolazione con la curva caratteristica cioè strozzargli la pressione a monte mandare una pressione maggiore tu rischi che la portata è dall'altra parte guarda se è là nell'ala difficile chiaro? ci siamo? avete capito? quindi regolare nelle macchine dinamiche assiali la curva caratteristica invece il numero di giri per regolare trovare il punto di progetto è pericoloso c'è il rischio tu regoli la pulpa caratteristica aumentando la sovrappressione in uscita la pompa e che la pompa non riesca a lavorare in fluido comincia a pompare e non esce più in nulla ok chiaramente questi ultimi fanno bene c'è il rischio anche di spaccare la palla chiaro? tu senti proprio le botte boom boom tu devi riaprire di ursa la prevalenza poi riabbassare la pressione e poi scendere ma per l'unica qual è il massimo di prevalenza? dalle urbe aratteristiche tu devi cercare di andare al punto di progetto che sia più lontano possibile da questo rischio chiaro? poi delle volte in lavorazione si fa anche proprio del testbed cioè si fa il testbed e si va a regolare la la contropressione allo scarico quelle sono acinesche quindi si accorge che comincia inizia a pompare piano piano e quello si avisce sperimentalmente nel punto limite oltre in quale avviene il pompaggio avviene il pompaggio avviene il pompaggio con la urbe aratteristica che aumenti troppo la prevalenza dell'unica quindi lei cosa fa? il fluido davanti a sé ha una pressione troppo alta e la palma ce la fa e quindi non avendo il giacinetia sufficiente per convertirla in pressione quando ha filione nel giacinetia ha convertito la pressione se la pressione è inferiore a quella deve avere un po' andava avanti e torna cioè la pressione è comanda cioè che cosa fa il filetto di fluido diceva il giacinetia dalla palma poi via via la converte in pressione quando ha filione nel giacinetia si ferma se la pressione non è sufficiente a superare quella avanti quindi l'unico modo è tornare dove la pressione è più l'effetto di pressione l'effetto di montare le parti del giacinetio chiaro mentre nella pompa come abbiamo già ripeto nella pompa radiale il problema non c'è perché la pressione è estrettamente sovrabbondante quindi se anche tu aumenti la pressione lo scarico la passa sempre chiaro? quindi riapitolando le pompe aziali come le regoli con il numero le pompe bellumese e con le regoli con il numero le pompe centrifughe le può regolare anche con le sora con le sora cinese va bene? quindi se fai il punto di progetto prende e chiudendo la sora cinese 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 in una valvola è più di più se tu metti la ponte la ponte di aria concentrata tu metti la prevalenza no tu la sull'impianto non è uscita no tu strozzi la valvola tu metti la ponte di aria in l'impianto automaticamente trovi tutti i pericoli tu cambi la ruola aratteristica la ruola aratteristica è in prevalenza portata stringendo la valvola automaticamente tu metti la ponte la prevalenza è in matematica te lo fai vedere anche qui vedi qui le urbe rosse sono curva aratteristica dell'impianto come farne a variare? attraverso la sora cinese lo sanno anche loro e tu trovi un punto di progetto diverso a portate diverse ok? questa è la aratteristica della pompa e questa rimane costante quindi questo lo si fa in una pompa assiale dinamica questo sotto si fa o in una pompa volumetrica o in una pompa una subopompa però centrifuga va bene? qui si varia l'aratteristica dell'impianto per scambiare il punto di progetto cioè se strozza con una valvola e si mette le ferie le ferie le ferie le ferie si regola il numero di giri della pompa e si ha un bel punto di progetto chiaro? va bene? questo ci fa sia nelle volumetrie che nelle radiali anche volete però sempre radiali perché anche le turbopompe azziali sono sensibili perché anche loro hanno il problema della pressione anche se possono lavorare la portata o anche la guardano chiaro? e prevalentemente le turbopompe prevalentemente lavorano sempre con quelle configurazioni radiali non anziali qui abbiamo due turbopompe uguali vedete? le regolano con questa è la ratrizia del sistema e questa è la ratrizia delle pompe singole che poi su somme tu trovi il valore di progetto qui invece come sono due pompe in serie dove si aumenta la regolenza e questo è il punto di progetto va bene? vi ho dato in serie in parallelo delle pompe nelle pompe in serie si aumentano la prevalenza e rimane ostratta la portata nelle pompe in parallelo rimane ostratta la prevalenza e si aumentano la portata e qui va a fare un altro esercizio anche questo fatelo se poi c'è dei problemi me lo dite se non vi riesco non si riparo va bene? se non vi riesco non si riparo allora vediamo ora il fenomeno della capitazione allora il fenomeno della capitazione è un fenomeno dovuto l'abbiamo un po' già spiegato al fatto che la pompa aspirando diminuisce la propria pressione questo è il problema in attivazione che abbiamo soprattutto nelle pompe non all'emmerzione ma nelle pompe in aspirazione ovvero quando io ho una pompa che rispetto al battente dell'aspirazione è più in alto va bene? cioè io ho un bacino che è più basso rispetto alla pompa questo l'abbiamo fatto anche nell'esercizio cosa succede? la pompa conferisce al fluido un abbassamento di pressione rispetto al valore dell'aspirazione cioè in questo punto in base al battente d'altezza in base alle perdite di carico ho una pressione di aspirazione che è inferiore rispetto alla pressione acquosferente quindi ho una depressione vero? come si è mai un punto di retta al basso perché se no cosa succede? allora funziona così nell'acqua nell'acqua voi avete come sapete l'acqua non è mai una miscela pura è una miscela dove dentro l'acqua si sono disciolti dei gas per esempio l'ossigeno chiaro? cosa succede? il gas in acqua ha la famosa pressione di vapore sapro che cosa vuol dire? vuol dire in pressione di vapore sapro mettiamoci a 0,4 bar vuol dire che quando la pressione raggiunge 0,4 bar il vapore è sapro cioè è la massima quantità di miscela acqua-vapore che può esistere se abbassa ulteriormente la pressione poi di sotto il vapore sapro cosa succede? alla bollicina il gas non sta più in soluzione e va e diventa e va nello stato gas gas e quindi forma una bollicina la bollicina perché non può stare più nel lipido va nella fase gas poi la bollicina è più leggera va verso la superficie ed implode ma è la stessa discorso? stesso discorso tu crei una tu inserisci dentro la pressione atmosfera e la pressione di vapore costaturo una quantità di CO2 però anche lì come tu vedi rispetto alla bombola chiusa quando il tetto apri la bottiglia la pressione di vapore costaturo è circa 1,2 bar per cui se la pressione atmosfera è un bar la bollicina di CO2 viene a galla e implode perché ce n'è più di quella che potrebbe rimanere in soluzione e non rimane risciolta l'acqua chiaro? tant'è vero che suggeri la bollicina perché? perché via via la bollicina va in soluzione questa è la bottiglia questa è la termodinamica la vediamo il prossimo anno ti hai l'acqua o la CO2 la bollicina è che va implode e va nella parte gassosa andando nella parte gassosa aumenta la pressione qui crea una pressione non più di un bar ma di 1,4 bar perché non aggiunge il valore di frizione satura per cui le particelle non riescono ma vanno più di soluzione perché possono rimanere mescolate nell'acqua come te tu apri il tappo tu appassi la pressione tu va sotto il valore di frizione di vapore saturo e la bollicina deve uscire fuori alla soluzione tant'è vero la ridullabile e la bollicina 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 perché si è raggiunto la pressione di vapore satura ritorna l'avete avuto? e qui funziona uguale l'acqua ha una pressione mettiamo da cosa dipende la pressione di vapore saturo? dipende dalla matrizia di gas risciolta in acqua chiaro? dipende da acqua però mediamente la pressione di vapore saturo di un'acqua normale 0,2-0,3 bar quindi che vuol dire? che quando qui tu arrivi a 0,2 bar le bollicine sono il gas nell'acqua vanno in stato gas gas poi che succede? te e me qui ti tu aspiri a 0,4 poi passa attraverso la pala passando attraverso la pala si genera a stavolta per problemi anche di perdite una diminuzione di pressione quindi l'acqua va dentro e passa nella pala subisce delle variazioni di pressione cosa succede? il vapore diventa una bollina poi andando avanti ritrova la pressione elevata ritorna in solut ma la bollicina d'aria rispetto alla bollicina d'acqua fa meno pressione e quindi crea proprio un urto sulla pala il ruolo di pressione crea un urto che crea proprio un buco perché a forza di boom boom è come se tu stessi fai una martellata chiaro? e alla lunga dalle tue la pala te ne accorgi perché quando hai proprio l'abitazione tu senti proprio il rumore si ripio della bollicina che nasce e che si rompe i battere della bollicina che si forma e che si comprime e quindi crea sulla pala l'urto l'urto eh? spesso le butti via se c'erano le bombe non è conviene per ripararle in alcuni casi le bombe sono più buone se le risaldano cioè ricostituiscono il foro con della saldatura immateriale però è un lavoro e ha un costo e poi bisogna vedere siccome sicuramente quella è una zona a rischio di abitazione prima o poi quella zona si manifesta sempre l'abitazione e quindi c'è sempre il rischio che anche la saldatura non incolla ma bene rispetto a un materiale d'origine si rischia che si rompa poi dipende dal costo della pompa ovviamente il costo di manutenzione c'è sempre sul costo della pompa vedete qui queste sono tutte bollicine d'aria e si sono formate vedete eh? che quando vanno nella pompa creano il buco eh? lui dice poi che si forma in tempi brevissimi cioè molte volte te che cosa fai? tu accendo una pompa tu fai magari regolazione tu crea una perdita di aria maggiore tu abbassa ulteriormente la pressione e la filazione e si verifica il fenomeno chiaro? perché chiaramente se io qui ti metto una valvola e strozzo aumento l'abbassamento di pressione va bene? bene allora per questo motivo che cosa si crea? si crea l'altezza netta positiva ad aspirazione NPSH cioè si abbina la pressione limite di pompaggio quello che abbiamo visto quando si fece l'esercizio quello che ho dato eh? quando si fece il compito si trovò la pressione minima che si generava gli dava una pressione minima al di sotto della quale non si doveva scendere qual'era l'altezza a cui posizionare la pompa perché non si manifestasse il fenomeno comunque questa altezza si ama NPSH si comunque il concetto è questo nelle pompe viene stabilito questo questo è l'altezza disponibile cioè è a che altezza tu puoi mettere la pompa se tu la metti ad un'altezza superiore a questa c'è il fenomeno dell'avitazione perché? perché la pressione che si genera scende sotto il modo limite la pressione vapore e quindi nasce l'avitazione infatti cosa c'è qui? oltre a RG che viene dalla legge di qui c'è un'altezza qui c'è una pressione legge di queste vie pressione di aspirazione di serbatoio questo qui perché non si dice che qui è atmosferico ma qui potrebbe avere un serbatoio pressurizzato e che mi aiuta pressurizzato in pressione se c'è una pressione di due bar posso alzare più la pompa perché raggiungo più tardi il limite di aspirazione solitamente la pressione di serbatoio è un'atmosfera va bene? questa è la pressione di vapore quella si diceva prima in cui si comincia a formare l'A e il limite a cui non devo arrivare fratto rocchi Zeta sarebbe la vuota di cioè se la pompa crea all'interno se tu aspiri qui e tu spingi qui questo è Zeta ok? oppure fa vedere se è il livello di serbatoio dell'acqua dentro perché lui può mettere il serbatoio una vuota fa vedere Zeta perché Zeta lo mette qua fa vedere aspetta un attimo se no perde il filo poi si torna lui Zeta mette si è uscito l'altezza di aspirazione la vuota della bocca di aspirazione è la furbo compa rispetto all'alto rimento ah così a che livello aspira chiaro meno HLA per sui tratto di aspirazione quello si è bello visto va bene ok chi siamo cioè se io metto se io metto la pompa qui questo è il serbatoio questo è il livello questo è il condotto questa è la pompa se rispetto a questo io so un livello di aspirazione più alto va bene che va a creare un'ultima riduzione le pede di aria il condotto e questo è l'altezza l'altezza a cui aspiro va bene sarebbe no ci già tab bravo bravo va bene siccome queste sono altezze non le divido per oggi va bene quindi si è la differenza tra il pelo libero e l'aspirazione HLA e le perdite concettate e distribuite questa è la pressione di aspirazione questa è la pressione di vapore a cui il fluido forma le bolle uscite quello è circa 0,4 0,2 atmosfera ci sarebbe 4 metri se voi fate conto che l'altezza un'atmosfera è circa 10 metri qual è il limite è circa 6-7 metri sopra 6-7 metri la pompa non può aspirare vero perché crea l'abitazione perché diventa residuo se questo è 6 metri già sono d'altezza di residuo è 0,4 poi mettici un po' di perdite tu va 0,2 0,3 e quindi tu rischi di abitare ok io direi mezz'oretta mezz'oretta no mezz'oretta no ora vi do 10 minuti che vuoi il bagno io e poi dovremo vincere allora qui riepiloga riepiloga l'NPSH va bene che è dovuto a la ZA alle perdite di carico che si generano in condotto per l'aspirazione va bene e quindi che generano il il rischio di cavitazione vero e qui è riportato va bene dato perché la pressione di aspirazione è 10 atmosfere nota la pressione di vapore si può riavare questi valori ok bene il chiaramente la nella ZA si sta anche la parte cinematica ovvero se io voglio aspirare a una certa portata ho bisogno a una certa velocità che riduce ovviamente la pressione va bene con bel dolore bene lui mi fa vedere degli interventi per ridurre le perdite un modo è ovvio mettere la pompa al di sotto del bacino di aspirazione e quindi creare un'osietà negativo e quindi avere questo termine positivo l'altro modo lo dice se proprio non si può ottenere questa soluzione lui va a vedere la tecnica dell'eiettore cosa fa l'eiettore l'eiettore è struttata la pressione di alimentazione di un circuito tipo dell'acqua dell'acquedotto e spinge l'acqua in alto a pressione ma cioè conferisce la pressione dell'acquedotto al serbatorio cioè praticamente fa in modo che non si aspiri alla pressione delle circosfere ma si aspira alla pressione maggiore va bene mi torna perfetto oh meno male dove tu stava attento quelli l'hanno capito perché ho parlato di solo gli hanno spiegato l'uno l'ha capito e non ha fatto la domanda vieni allora no vieni te lo vado a domanda glielo spiegare voi meglio svegliere allora te che cosa fai te nell'npsh si è detto prima questo termine vediamolo qui questo termine qui è la pressione d'aspirazione che solitamente in un serbatoio è la pressione atmosferica però io questo termine lo posso aumentare allontanandomi aumentando l'npsh cioè se io aumento la pressione d'aspirazione la bomba la posso posizionare anche più più in alto come faccio a aumentare la pressione d'aspirazione ci metto un elettore che cosa fa l'elettore prende la pressione da l'acquedotto la pressione maggiore e stringe l'acqua a questo lato quindi è come se aumentasse la pressione di serbato chiaro e qui la metto l'npsh e quindi mi permette di avere un battente in aspirazione maggiore chiaro va bene ora sempre qui vi da l'esercizio e questo è uguale a quello che avete fatto l'incompito in cui si va a trovare l'altezza minima oltre il quale si ha il fenomeno dell'abitazione lui vi da la pressione di vapore vi da le caratteristiche dell'impianto e vi dice qual è l'altezza oltre la quale si genera le perdite si crea la navigazione chiaro se il vapore vi da già le perdite di carico lui cosa invece voi in compito dovete sapere calcolare questo mi sembra un vantaggio perché chi mi fa bene sto compito e mi sa calcolare le perdite di carico è apposto ha finito se non le sa calcolare rimane il reuvero che è dopo se non le sa calcolare se non le sa calcolare le perdite di carico la riupera la turma la maggiori deve tornare e deve tornare a macchina no la maggiori sulla parte della dinamica della meccanica si è uguale a quello però la parte macchina è quella risolta si può essere rimandata anche solo nelle due e questo è l'obbligatorio di essere rimandata si può essere rimandata anche solo a macchina o a meccanica la media non esiste la media non esiste ma dove esiste l'esiste è la media ma la media è così di attiva vedrai che alla fine dell'anno se decido rimandare la prega è attiva se non sei così farei un modo tu verrai più lozzo tu capisci lui è così come il duce o così o così o non è come il duce no un inquadrare un inquadrare Dio di Dio e soprattutto soprattutto ma non è lo svantaggiare è un criterio di valutazione il criterio di valutazione vuole che io se ti metto sei dichiaro e te hai fatto un apprendimento idoneo di tutte le nazioni di quest'anno mi devi spiegare perché se tu mi pigli 4 alle pompe posso dichiarare che sei d'olio perché hai preso 8 a meccanica quindi delle pompe non c'è più nulla e devo dichiarare che delle pompe tutte a sé come fai? delle pompe la dinamica è uguale ti ho fatto tutti i pompe ti ho dimostrato ti ho fatto dei programmi sulla dinamica del corpo mi la vuole risolva non ti portano mi ha fatto la dinamica del corpo ti torna? mi sembra o no non capisco non vedo il problema dove perché la media dice ma la media è che di così come se tu dimostri l'avevo capito anche se prima l'ha preso 3 tu l'ha capito basta cioè se ti ho preso 3 poi tu pigli 6 l'argomento l'ha comunque capito basta e chiaro se ti pigli l'ultimo voto negativo dimostra tu l'argomento eh? se non si impegna tutto l'anno in buon modo che lui ci cuccherà quello è il punto no ti impegni tutto l'anno tutto l'anno è fino a giugno no fino a aprile fino a aprile è il privilegio tu ti impegnassi più che tutto l'anno si impegnava veramente e ha sempre fatto il confio sul piccolo questo è il premio di chi si è impegnato l'anno maggio io lascio libero eh però qual è il premio di sempre di 8 anni? maggio libero perché è l'ultimo super c'è il chiamo o c'è l'asso? il chiamo o c'è l'asso? l'anno ma chi è che c'è l'asso? c'è l'asso c'è l'asso c'è l'asso Fabio vedi io allora nel libro oltre a quegli esercizi ora vi assento avete il recupero avete tutto il riassunto di quello che abbiamo fatto ma questi i 15 quelli sono sono fai taranti farò un po' la lista di chi dovete riuscire nel libro avete anche il recupero avete anche il il capellino di riassunto in modo che potete riguardare come una sorta di ripasso quello che abbiamo fatto va bene? questo è fatto molto bene lo sorriso? si e poi avete gli esercizi va bene? che ora vi assegno no per oggi no oggi fate gli esercizi quelli che trovate nelle basi poi la prossima si va qui questo